207 giorno dall'inizio dell'anno siamo sotto il segno del leone la chiesa ricorda san giacomo apostolo l'onomastico oggi è l'onomastico di giacomo e jacopo il nome ha origine aramaica e significa seguace di dio il numero porta fortuna è il 4 il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino accadde oggi il 25 luglio del 1956 a largo di cap code negli stati uniti il transatlantico italiano andrea doria affonda dopo essersi scontrato nella nebbia con la stockholm moriranno 51 persone 6 passeggeri dell'andrea doria e 46 della stockholm chi è nato oggi tra i personaggi famosi nati il 25 luglio ricordiamo l'attrice sabina guzzanti e il giornalista gigi marzullo la citazione del giorno ottimista è chi dice domani è domenica pessimista chi dice dopo domani è lunedì gustavo flaubert dice il saggio ammirare i fiori è facile farli crescere è molto più difficile il bel paese piazza armerina sorge su un'altura dei montierei meridionali in provincia di enna la città presenta uno splendido centro storico barocco con bellissimi palazzi e un imponente duomo ma il vero tesoro di piazza armerina è la villa romana del casale dimora di 60 stanze con 4000 metri quadrati di pavimenti in mosaico giunti intatti fino ai nostri giorni e raffiguranti scene di vita quotidiana scene di caccia animali marini ed episodi omerici grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.